Oggi ci siamo incontrati a Roma, in Via Piave, con il sindaco di Latina che è stato gentilissimo e nei fatti ci siamo incontrati sul piano sostanziale anche col sindaco di Parma. Frontalmente ci troveremo l'11 di settembre, io, il sindaco di Pescara, il sindaco di Latina e il sindaco di Parma per rappresentare come l'originaria riforma ha perso ogni effetto, ogni significanza e ogni consistenza poiché sono rimaste soltanto tre città a perdere le sedi dei Tar e noi rispetto all'obiettivo del governo che è quello del contenimento dei costi faremo mettere sul tavolo un'ulteriore iniziativa. L'attuale costo per la tenuta in esercizio degli spazi destinati alle sedi del Tar, poiché sono spazi di proprietà comunale quei costi verranno a ricadere solo sulle macchine amministrative comunali della città di Pescara, di Latina che già si è dichiarata d'accordo e credo che lo farà anche il Comune di Parma in maniera tale da incoraggiare questo supplemento di riflessione da parte del Ministero e del Governo in ordine al valore del risparmio. La problematica è una problematica seria, la problematica che oltre ai problemi e gli aspetti economici con cui poi entrerò nel merito ci sono anche gli aspetti dell'utenza perché parliamo di migliaia di cittadini che avrebbero un disagio enorme perché queste tre sedi distaccate offrono dei servizi al territorio importanti e quindi anche l'economia del territorio avrebbe un grave documento. Latina, Parma e Pescara non possono supinamente rinunciare alle loro sedi perché rappresentano un'eccellenza sia per quanto riguarda il diritto ma anche per quanto riguarda soprattutto la qualità di vita di questi territori e di queste terre.